Dal parco di via Liberato di Benedetto siamo con il sindaco Simone Petrangeli. Con la delibera consigliare del 6 marzo scorso il centrale parco cittadino è stato intitolato a Luca Rurari, Valentina Argenis Orlandi e Michela Rossi. Tre giovani ragazzi reatini scomparsi in seguito a questo sisma particolarmente doloroso. Un segnale di forte vicinanza della città, le famiglie ed un momento toccante nel ricordo di questi tre giovani concittadini. Abbiamo voluto con questo gesto semplice ma simbolico onorare la memoria delle vittime della nostra città. La città fa un tributo ai suoi ragazzi che purtroppo sono rimasti vittime del terremoto dell'Auglia che probabilmente è una delle tragedie più grandi degli ultimi anni nel nostro paese. Un gesto semplice ma simbolico perché comunque questo è il parco dei giovani della città. È il parco dove tutti noi abbiamo passato gran parte della nostra giovinezza e quindi volevamo appunto che si lasciasse un segno nella toponomastica della nostra città proprio perché riteniamo la vicenda del terremoto dell'Auglia una cosa che ha davvero coinvolto tutto il paese ma in particolar modo tutto il territorio circostante il capoluogo abruzzese. Noi siamo legati dall'Aquila in qualche modo a doppio filo e tanti aquilani sono stati ospitati anche dalle nostre strutture alberghiere in quei giorni, in quel periodo e quindi oggi vuole essere anche un segnale di vicinanza alla comunità aquilana e sono davvero contento che sia presente un rappresentante dell'amministrazione dell'Aquila perché questo è il segnale che insomma in momenti del genere c'è bisogno di unità anche per rimettere diciamo così un po' al centro del dibattito pubblico una vicenda che non si è per niente conclusa perché la vicenda della ricostruzione dell'Aquila è un tema purtroppo assolutamente attuale. Quindi una splendida giornata quella di oggi che poi si concluderà all'Auditorium Varrone con canzoni, testimonianze e musica. Non sarà sicuramente una commemorazione bensì una festa quindi un altro eroico segnale lasciato dai genitori e dalla città nel segno comunque della memoria di questi ragazzi. Assolutamente sì, come hai detto bene tu vuole essere diciamo così una festa in onore di Luca, Valentina e Michela e quindi dopo questa piccola manifestazione nella quale esporremo per la prima volta l'intitolazione del parco ci sarà l'occasione per sentire della musica e anche rivedere le immagini dei tre ragazzi.